Sono iniziati questa mattina i lavori su Corso Vittorio Emanuele. Il disagio più volte lamentato dai commercianti sul periodo, per così dire, sensibile, quello dei saldi, pare molto più sopportabile. Anche perché i marciapiedi sono leggermente ristretti, ma il passaggio davanti alle vetrine pare agevole. Come sono stati programmati i lavori? Allora, con un accordo con le categorie produttive, alle quali viene rivolto un ringraziamento da parte dell'amministrazione, si è deciso di organizzare in due step questi lavori, che partono oggi, che dureranno fino al 21 agosto nel tratto da Corso Umberto fino a Via Genova, con la possibilità però per i residenti di accedere attraverso Via Emilia. Dopo il 21 agosto, fino alla data presumibile dell'8 settembre, invece si passerà alla parte sud di Corso Vittorio Emanuele e quindi al contrario ci sarà un divieto di transito nella parte proprio che andrà da Via Genova, eccezione fatta per i residenti e sempre fermo l'utilizzo di Via Emilia, fino a tutto il tratto che va fino a Corso Umberto. Questo è stato il punto forte del ragionamento che è stato condiviso con le categorie produttive e che ha trovato anche da parte loro comunque l'adesione. Parole di distensione anche da parte del Presidente di Confesercenti Pescara, Marina Dolci, che rimarca la situazione adottata come l'unica via possibile da percorrere. Nello stesso tenore l'opinione della Consigliera di Fratelli d'Italia, Zaira Zamparelli. Se proprio dobbiamo trovare una virgola nei lavori bellissimi che si stanno facendo, forse quelle pensiline vederle al lavoro finito per capire se davvero le perplessità dei commercianti sull'impatto che potranno avere sulle vetrine e sulle insegne è davvero fondata. E non resta a questo punto che chiedere a chi ha la vetrina del negozio piazzata proprio davanti al cantiere. Cosa ne pensa? Che disagio è? Ma nessun disagio perché quando fanno delle migliorie per Pescara non è un disagio momentaneo diciamo, perciò alla fine non è nessun disagio. Se mi consente vorrei fare però una mia considerazione che si esime da questa cosa. Io sarei pienamente d'accordo a unificare Corso Vittorio e fare tutta Isola Piedonale. I disagi sono tantissimi, tanti tanti tanti. Poi come note il passaggio non c'è, i pullman non ci sono e quindi siamo bloccati anche nel periodo di agosto, luglio-agosto. La gente non viene in centro, già i disagi dei parcheggi, il disagio che non ci blocco totale. Io sono veramente avvilita. Grazie. 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 Grazie.